artmap.tv siamo in compagnia di davide mazzoleni della galleria mazzoleni di torino quando nasce la sua passione per l'arte ma si da bambino una passione familiare e quando ha iniziato a collezionare ma io personalmente negli anni 80 e poi fine anni 80 abbiamo aperto questa attività e dopodiché poi nel 2000 a tempo pieno ho iniziato anch'io a sostenere la famiglia in questo mestiere bellissimo. E cosa ha significato per lei il passaggio da collezionista a gallerista? È un passaggio importante perché collezionista è forse un mondo più divertente questo diventa un lavoro molto impegnativo e molto difficile. E vuole raccontarci la linea di ricerca che segue come gallerista? Sì noi ci basiamo e puntiamo soprattutto sullo storico per cui artisti come Burri, Fontana, Bonalumi, Manzoni insomma le vanguardie storiche italiane. E una riflessione sul mercato dell'arte in Italia? È questo momento molto difficile la gente ha paura però nonostante tutto penso che chi voglia investire ha la possibilità oggi di fare dei buoni affari e comunque proteggere anche i suoi capitali. E voi come galleria puntate molto sull'Italia, sugli artisti italiani, avete in progetto di dedicarvi anche agli artisti stranieri? No, insomma io parlavo di artisti italiani perché siamo qua a Roma in Italia. Comunque sempre anche per quel che valeva per il discorso di italiani capiscuola anche magari europei insomma non ci limitiamo solo all'arte italiana. Poi abbiamo anche un occhio verso l'arte contemporanea che stiamo sviluppando prossimamente e pensiamo di fare delle cose nei prossimi 3-4 anni. E proprio per quanto riguarda l'arte contemporanea un consiglio per gli artisti giovani? Eh, 50-60 anni fa loro erano gli artisti giovani che tutti prendevano in giro in cui nessuno credeva. Per cui credere, andare in giro, guardare le fiere e divertirsi con l'arte. Poi ci va sensibilità, ci va occhio comunque. Ci va una sensibilità fortissima per l'arte. E poi divertirsi. E quali sono i prossimi progetti come in galleria? I prossimi progetti faremo, suppongo, vedova e poi non si può dire, non si possa svelare proprio tutte le nostre cose future. Grazie, grazie. Grazie.